Ragazzi, purtroppo non ho potuto portare Mario 3D World, ma il prossimo episodio ci sarà. Ciao! Bada a tutti Enderman! Oggi siamo qui in un nuovissimo video di Black Ops... Ok, di Black Ops 2. Infatti, ma sto sistemando la grafica, perdonatemi. Ok, perdonatemi se vedete un po'. Ora si inizia, così in pochi, di cattiveria, proprio spontanea, o di cattiveria. Vediamo se oggi trolleremo. Perché molti hanno detto che, anzi, i miei amici, i cari amici, mi hanno detto che vogliono che io trolli qualcuno. Bene, gli trollerò con piacere. Dopo che avrete messo un bel pollicione in su. E ora si inizia con Black Ops 2 Trolling! Ok. Iniziamo con un'arma abbastanza trolling, tra cui questa. Allora, vediamo un po'. Chi potremmo trollare? Anche se perdo cose... Sbagliamo la strana. Questa non va bene. E' buio odo anfo, e' un cug. Vediamo. come c'è un italiano bello aiaia va bene un po' ce la giocheremo un po' ce la drogheremo ok tanto vale giocarcela bene allora un po' di trollerini tra cui questa qui chiara parla lo trollerò allora 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 cabuzum è nella mia squadra credo che cazum non ci sia nella mia squadra quindi no 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 c'è oh c'è oh non c'è boom headshot eccolo è lui mi sa ciccio birgio ciao ciccio birgio ok allora ciccio birgio ora tocca a me partì del male ciccio birgio oh l'ho già fatto qualcun'altro ok tipo eccolo fermo bellissimo effetti allora come che cosa non momento male non tornare oddio bellissimo va bene raga il trolley sta andando bene già la partita sta andando bene e per lo più trolling anche raga se troveremo vabbè un nemico lo scetteremo va bene allora cerchiamo di nonno cerchiamo di nonno e beh fermati fermati guardate guardate non c'est lui il lo sape ma dò no dai parla parla eccolo bellissimo il bello è che io ci vado davanti anche se è un giocatore che è un po' larga un po' larga vabbè è lost bellissimo il bello è che stiamo fuori vincendo il bello è che stiamo fuori vincendo ok l'ho ucciso ok ragazzi perdonatemi 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 ok aspettate il trolling sta continuando questo qui non lo sto un po' tormentando più perché credo di cellulare ok e ora andiamo a farlo di nuovo perdonatemi se crede qualche volta di cellulare ma vabbè capita perché dovevo stoppare un minuto no non sei tu eccolo no che ero ho fatto l'ultima kill eccolo raga addio dietro di questo ragazzi è troppo epico effettivamente epico ragazzi vedere questo qui che si lamenta che io gli vada addosso è troppo divertente praticamente ora noi utilizzeremo la classe sei punti utilizzeremo una piuttosto trolling che io utilizzo le trolling allora ferro piedi rida allora tutti che parlano perfetto perfetto mi piace questa anche se è un po' troppo grande però non posso farci niente ragazzi ok ragazzi prepariamoci a trollare tutti quelli che saranno con noi oppure contro di noi spero che questo kaboomazoo sia con noi così potremo ancora trollarlo per bene e fargli capire chi comanda se se c'è pure c giro orgigio si si possiamo trollarli alla grande e noi siamo i vittorio pum 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 ormai quella ciccio rigio e credo anche l'altro abbiano capito che io sono un bel trolling queste diciamo che ho fatto tanti trolling su black ops e ora che faccio il video sono ancora più contento così possiamo farci qualche risata insieme allora ci allora loro stanno o o non no e ciò qualche volta me lo giocherò bene qualche volta no perchè devo pur trollare dov'è il mio compagno? non uccidere ecco il mio compagno oddio che kill io sono il trolling qui non tu Kierogamer ha cambiato Kierogamer ha cambiato cosa? Kierogamer è dall'altra parte e quindi ecco Kierogamer è dall'altra parte si allora dov'è? eccolo vaga ora inizio un po' il trangolo dai 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 di chi si fa il trangolo no è vero di qua no è vero di qua ci si deve non finite le munitioni se non ho le petto chi si vede non devi occupare addio raga una kill e chi laggia? venga qualcuno laggia qui non sono io giuro chi sta laggata da schifo se non è male? ma quando ho messo un minuto per l'icolo no no che cazzo ti metti davanti ma che volta va a scattire? è difficile trovare a scatti basta guarda un po' di kill ragazzi devo fare anche se non domani guarda 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 poi ragazzi non lo so no ma dai ma che sfiga cioè loro non mi sentono loro non mi sentono ragazzi loro non mi sentono e non mi vedono ok raga iniziamo va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto commentate e condividete se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi